1871, il Cairo, prima assoluta dell'Aida di Giuseppe Verdi. 1927, nasce Pio La Torre. 1491, nasce Inigo Lopez de Loyola, meglio conosciuto come Ignazio. Commenta il Fatto del Giorno Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia. La tregua di Natale, 36 ore di pace lungo le trincee della Prima Guerra Mondiale.